Dopo aver preso in considerazione le liriche di Leopardi, andiamo adesso invece ad indagare le prose e soffermiamoci sulle operette morali. Siamo in un periodo in cui Leopardi vuole allontanarsi dalla lirica, siamo nel periodo infatti che prelude al pessimismo cosmico, al cosiddetto pessimismo cosmico. E quindi Leopardi, negli anni che vanno tra il 20 e il 23, comincia a concepire un nuovo modo di scrivere, diciamo così, abbandona volutamente la lirica e quindi si dedica alla prosa. È un periodo in cui quindi ritiene che la poesia non possa dare compiuta risposta al suo modo di concepire la vita. E dopo il ritorno da Roma nel 23, quando appunto questa delusione del soggiorno romano sicuramente esacerba ulteriormente il proprio animo, inizia appunto a scrivere, dopo averla già concepita e pensata appunto nei tre anni precedenti, quest'opera. Si tratta di 24 testi di argomento filosofico scritti ora in forma di dialogo, ora in forma di narrazione, infatti i dialoghi e narrazioni si alternano. E', abbiamo detto, concepita tra il 20 e il 23, quindi dopo la conversione filosofica del 19, il passaggio, abbiamo detto, dal bello al vero. L'idea dell'autore è quella di creare un nuovo genere letterario. Perché nuovo? Perché deve essere un genere letterario che prenda spunto dalla commedia antica, sia dalla commedia greca attica, sia dalla commedia plautina di Punto Romana di Plauto, e che prenda spunto però dall'altro anche dalle prose di Luciano, quindi da un'opera filosofica. E' quindi un'opera attraverso la quale si realizzi il superamento dei generi tradizionali e un tentativo di mescolare tragedia a commedia. In che senso mescolare tragedia e commedia? Perché comunque lui vuole trattare argomenti tragici, ma in forma comica, cioè attraverso il ridicolo, mettendo quindi in ridicolo le finzioni di cui gli uomini fanno sfoggio, nel loro modo appunto di concepirsi perfetti, di sentirsi quindi superiori agli altri elementi della natura, e quindi vuole mettere in evidenza come questi atteggiamenti degli uomini siano ridicoli. D'accordo? Ma attraverso questo ridicolo lui mette in evidenza degli aspetti di dolore, quindi degli aspetti di tragicità. L'idea è di realizzare una prosa che sia al tempo stesso prosa scientifica e filosofica. Perché questo? Perché un tipo di prosa di questo genere in Italia non aveva avuto una solida tradizione. Se facciamo eccezione per Galileo Galilei, infatti l'Italia non conosceva una prosa filosofico-scientifica Leopardi vuole in qualche modo crearne una. La prima edizione delle operette morali compare soltanto nel 27, comprende 20 operette. Poi c'è l'edizione del 34, in cui si aggiungono due prose, e l'edizione definitiva, con l'aggiunta degli ulteriori due prose fino ad arrivare a 24, che è l'edizione del 1845, ma un'edizione che avvenne dopo la morte appunto di Leopardi, che morì come sappiamo nel 37. Ricordiamo, l'abbiamo già detto, che alcune operette morali furono pubblicate sulla rivista fiorentina Antologia. Leggiamo dalle parole di Leopardi stesso, in un appunto che prese nello Zibaldona il 27 luglio del 1821, qual era questa idea delle operette morali. Scrive Leopardi Nei miei dialoghi io cercherò di portare la commedia a quello che finora è stato proprio della tragedia, cioè i vizi dei grandi, i principi fondamentali delle calamità e della miseria umana, gli assurdi della politica, le sconvenienze appartenenti alla morale universale e alla filosofia, l'andamento e lo spirito generale del secolo, la somma delle cose, della società, della civiltà presente, le disgrazie e rivoluzioni, le condizioni del mondo, i vizi e le infamie, non degli uomini ma dell'uomo. Che vuol dire Leopardi? Vuol dire che attraverso queste prose lui vuole mettere a nudo tutti gli aspetti negativi che rappresentano, che connaturano l'uomo, l'uomo in generale, non degli uomini nelle singole epoche, cioè il fatto che Leopardi prenda in considerazione le varie epoche è un pretesto per arrivare a dire che l'uomo da sempre è caratterizzato da una miseria interiore, è caratterizzato da disgrazie, è caratterizzato da vizi e da una serie di elementi negativi che lo rappresentano da sempre. Vuole chiaramente dimostrare che nell'uomo non c'è stato un progresso, per quanto i contemporanei lo vogliano sbandierare, anzi Leopardi arriva a dire che l'epoca presente è un'epoca di assoluta miseria, di assoluta decadenza morale, anche se appunto i suoi contemporanei si sentono esponenti, diciamo così, espressione, insomma, di un periodo di grande civiltà. E ancora dice Leopardi, e credo che le armi del ridicolo, massime in questo ridicolissimo e freddissimo tempo, e anche per la loro natural forza, potranno giovare più di quelle della passione, dell'affetto, dell'immaginazione, dell'eloquenza, e anche più di quelle del ragionamento, benché oggi assai forti. Quindi dice Leopardi, ritengo che il ridicolo, il mettere in ridicolo questi vizi umani, possa essere più efficace nella lettura del parlare in maniera eloquente, quindi del parlare col sentimento. E subito dopo viene a fare una distinzione per quanto riguarda gli strumenti che lui ha utilizzato nelle opere letterarie che aveva già composto. Scrive infatti, così, a scuotere la mia povera patria e secolo, io mi troverò a avere impiegato le armi dell'affetto, dell'entusiasmo, dell'eloquenza, dell'immaginazione, nella lirica e in quelle prose letterarie che io potrò scrivere. Le armi della ragione, della logica, della filosofia nei trattati filosofici che io dispongo, le armi del ridicolo nei dialoghi e novelle lucianee che io vorrei preparando. Quindi dice, fa una distinzione netta, il suo scopo è sempre quello di scuotere le coscienze, dice lui, dei contemporanei, quindi nella sua povera patria e nel suo misero secolo. Ma queste coscienze le può scuotere con strumenti diversi a seconda del genere letterario a cui si rivolge. Quindi gli strumenti dell'entusiasmo, dell'eloquenza, dell'immaginazione sono proprio della lirica, della poesia. Al contrario, invece, all'interno di queste nuove prose filosofiche, lui utilizzerà le armi del ridicolo. Andiamo ad un altro aspetto, cioè la struttura dell'opera. È una struttura piuttosto frammentata, cioè non c'è un impianto ben netto all'interno di quest'opera. Però un'unità di fondo c'è e l'unità è rappresentata da un pensiero coerente. Quindi Leopardi, da inizio alla fine delle sue opere, vuole comunque arrivare a dimostrare che l'uomo è caratterizzato da miseria, da vizi. E quindi Leopardi indaga le radici dell'infelicità umana a partire dal mondo del mito fino ad arrivare all'attualità. Come vedremo, utilizzerà anche personaggi della letteratura, personaggi della mitologia, personaggi inventati, quindi pure personificazioni. Tutto questo però per arrivare a sottolineare l'infelicità umana. E un altro elemento unificatore è anche l'ironia. Perché? Perché appunto c'è un tono ironico molto forte che Leopardi utilizza per mantenere una sorta di distacco dalla materia trattata, una volta che appunto le illusioni sono crollate. Ricordiamolo bene che le operette morali sono espressione piena, in prosa, del pessimismo cosmico. E come espressione del pessimismo cosmico saranno poi, dopo il 28, i canti pisaroni e canatesi, ma in forma ovviamente lirica. Possiamo in qualche modo considerare l'opera divisa diciamo in due parti. Tutte e due sono introdotte da un'operetta che ha una funzione di proemio. La prima operetta diciamo che ha una funzione di proemio è la storia del genere umano, mentre l'altra è Parini o della Gloria. E poi andremo un po' nello specifico a chiarire l'importanza di queste operette, di queste prose. Qual è la finalità che si propone a Leopardi? È una finalità morale. Il titolo traespunto proprio dalle operette, che era il titolo del retore greco-isocrate, e quindi attraverso il titolo lui riassume un po' il carattere filosofico, ma anche satirico dell'opera. L'aggettivo che utilizza Morali suggerisce al lettore una nuova etica, cioè un nuovo modello di comportamento, un modello di comportamento che viene fuori dalla consapevolezza del triste vero. Al contrario invece il sostantivo, operette, con questo diminutivo di opera, operette, rimanda ad un contenuto etico, quindi legato al comportamento, ma anche un contenuto pedagogico, cioè che riguarda comunque il dare degli insegnamenti, che però è espresso in forma satirica, infatti anche questo titolo ripeto con il diminutivo, con l'alterato operette, sottolinea un po' questo intento di satira, di metterlo un po' in ridicolo. E ancora con il sostantivo operette c'è anche un rimando alla brevità, perché? Perché la brevità è congeniale alla riflessione filosofica di Leopardi, che è una riflessione non dogmatica, ma che appunto viene fuori da una serie di premesse, una serie di conseguenze. E vediamo quali siano le forme prevalenti e quali sono i personaggi più importanti, la tipologia di personaggi. Si alternano forma narrativa e dialoghi. Nei dialoghi spesso uno dei due interlocutori rappresenta il punto di vista proprio di Leopardi. Queste operette possono avere la forma di un brave trattato, di racconti mitologici, oppure di raccolte di detti paradossali, quindi appunto in cui intervengono questi personaggi che parlano, che raccolgono queste sentenze, questi detti, e poi le confutano. I protagonisti possono essere personaggi storici, che però sono tratti fuori dal loro contesto reale, perché questo aiuta molto di più Leopardi a mettere in evidenza il carattere di esempio dei personaggi stessi. Parini, tra i più importanti, Tasso, che ovviamente ricorre anche nelle operette morali, ed è, lo ripetiamo fino alla nausea, insomma un modello di riferimento importante per Leopardi, rappresenta un uomo moderno, Copernico, Colombo, tra i più importanti. I personaggi possono essere però anche delle entità astratte e personificate, che compaiono nelle varie operette, la natura, la morte, l'anima, la moda, possono essere creature fantastiche come Folletti, come Gnomi, come Diavoli, possono essere personaggi comuni, personaggi della vita quotidiana, ad esempio il venditore di almanacchi come un passeggero, possono essere delle divinità pagane come Ercole, Atlante, Prometeo, qui vediamo effegiate, insomma, nelle foto, l'Ercole farmese, importantissimo, che è conservato al Museo archeologico di Napoli, e qui invece abbiamo un dipinto che ritrae Torquato Tasso. E ancora, la lingua e lo stile delle operette morali. Leopardi non apprezza le soluzioni del romanzo contemporaneo, vuole cercare una lingua completamente nuova, perché? Perché deve essere una lingua che gli permetta di argomentare, quindi di dare dimostrazioni, e anche di far riflettere. Però, nello stesso tempo, deve anche emozionare, deve stimolare l'immaginazione, quindi deve creare una lingua nuova. Ripeto, deve far riflettere, ma deve anche saper stimolare l'immaginazione. Per fare questo, mescola stili e linguaggi, e, per esempio, arriva ad utilizzare un lessico familiare o dialettale, in un periodare che invece è strutturato su costrutti classici, quindi crea una sorta di ibrido. I principali modelli sono il dialogo di Luciano di Samosata, il dialogo di Cicerone, che vediamo qui effigiato, il dialogo platonico, il dialogo di Senofonte, per esempio, dei miei memorabili. Andiamo poi a vedere quali sono i temi. I temi sono veramente molteplici. Prima li schematizziamo, poi molto brevemente andiamo a riassumere il contenuto di alcune delle 24 perette morali, che poi chiaramente leggeremo, alcune delle quali leggeremo. Allora, i temi più importanti. La definizione di felicità e infelicità. La felicità e l'infelicità in rapporto all'esistenza degli individui. Il tema della noia. Il tema della critica al progresso. Il tema della morte. Il tema della riflessione sulla poesia e la letteratura. Quindi proprio una sorta di meta-letteratura. Allora, partiamo dal primo tema, quindi quello della definizione di felicità e infelicità. Nel dialogo di Malabruno e di Fanfarello è presente la affermazione che l'infelicità è propria degli uomini. Il mago Malabruno, infatti, chiede al diavolo Fanfarello di farlo felice. Però il diavolo Fanfarello risponde che è impossibile realizzare questo desiderio perché l'uomo non può mai sentirsi appagato, cioè desidera sempre un piacere maggiore. E quindi da questo desiderio di un piacere maggiore viene fuori il sentimento di nullità di tutte le cose, quindi una sorta di nichilismo. E questa affermazione nichilistica arriva fino al punto da affermare che i momenti di non vita sono di fatto le sole cose apprezzabili della vita. Invece, al contrario, i momenti di vita sono caratterizzati dalla negazione del piacere, quindi dalla frustrazione, perché questo piacere non viene mai raggiunto. E un'altra opera importantissima è il dialogo della natura e di un'anima. Nel dialogo della natura e di un'anima Leopardi collega due concetti importanti, l'infelicità e la grandezza d'animo. Dice infatti, l'essere uomini comporta l'essere infelici, di fatto. E al tempo stesso, però, la grandezza comporta una maggiore infelicità, perché l'eccellenza permette di vivere le esperienze in maniera più intensa. E quindi, di conseguenza, più intensamente si vivono le esperienze, più intensamente si soffre. Quindi essere grandi d'animo, essere magnanimi, comporta anche un'infelicità ancora maggiore. E ancora nel dialogo della terra e della luna, Leopardi attribuisce l'infelicità e i mali anche al cosmo. Infatti dice, i vizi, gli infortuni, i dolori, la vecchiaia, esistono anche sulla luna e possono variare le forme di vita. Però la sostanza della infelicità, dell'esistenza umana, rimane la stessa, sia sulla terra, sia sulla luna, sia quindi ovunque. Andiamo a vedere il secondo tema. Quindi la felicità e l'infelicità è il rapporto proprio all'esistenza degli individui, quindi in maniera esistenziale. Nel dialogo del fisico e di un metafisico, si mettono in scena due opposti metodi di speculazione. Il metodo scientifico, che è il dialogo del fisico, e il metodo filosofico, che invece è il punto di vista del metafisico. Entrambi, quindi, lo scienziato e il filosofo, arrivano poi a dimostrare, ad affermare che l'esistenza e la felicità sono incompatibili. Quindi di fatto, esistere comporta di per sé un essere infelici. Il fisico, infatti, è trovato un elisir di lunga vita e il metafisico sostiene che è preferibile una vita breve ma intensa e che la vita, infatti, non costituisce un valore di per sé. Anzi, la vita, dice appunto il metafisico, è infelicità. L'uomo, di fatto, desidera la felicità e pensa che la vita sia l'unico mezzo per realizzare questa felicità. In realtà, invece, la vita oscilla tra infelicità e noia. e a questo stato di, diciamo, questo avvicendamento tra infelicità e noia si può avviare soltanto intensificando le sensazioni o intensificando le azioni. Però poi, appunto, alla fine si arriva alla conclusione che l'essere infelici è connaturato all'uomo. E ancora, nel dialogo di Torquato Tasso del suo genio familiare, si afferma che non c'è altra differenza tra verità e sogno, se non che la verità è sempre dolorosa. Invece, al contrario, il sogno è sempre piacevole. E il dialogo della natura di un islandese è chiaramente un dialogo famosissimo che andremo a leggere nello specifico. In questo dialogo la natura è personificata, rappresentata come una figura femminile enorme, spaventosa, completamente indifferente ai mali dell'uomo. L'uomo, quindi, crede erroneamente che la natura lo abbia creato per una finalità. L'islandese interroga la natura sul perché del dolore, ma la natura, Beffard, appunto, gli rivela che l'uomo non è altro se non uno dei meccanismi dell'esistere, diciamo, della natura, dell'esistere degli elementi. Quindi non c'è nessun tipo di finalità. E anche poi il finale, diciamo, un po' a sorpresa, sottolinea in maniera ironica proprio questa totale mancanza di, diciamo, di fatto che l'uomo non deve cercare una ragione del suo star male, perché la ragione è intrinseca, è data proprio dalla natura, dall'esistenza stessa. Il tema della noia. Interessante il dialogo di Cristoforo Colombo e Pietro Gortierrez. Il viaggio di Cristoforo Colombo è visto come un antidoto alla noia, perché il viaggio rappresenta l'attesa, rappresenta la speranza, e quindi è qualcosa che in qualche modo può aprire uno squarcio verso il domani, ricordiamoci sempre, che appunto questo tema della speranza era un tema legato in qualche modo all'illusione di qualcosa che può cambiare, così come lo è quello della rimembranza, quindi del ricordo. E ancora c'è un'altra operetta che si intitola L'Oggio degli uccelli. In questa operetta la poesia è, diciamo, un po' la protagonista dell'operetta. Perché la poesia? Perché il poeta è, diciamo, adombrato dalla figura dell'uccello, quindi l'uccello rappresenta un po' il poeta. La poesia è vista come antidoto alla noia. Tuttavia la conclusione è che la felicità perfetta degli uccelli è totalmente preclusa all'uomo. Si riprende un po' una tematica che abbiamo già visto nel passato solitario, in cui appunto la condizione del poeta è diversa da quella dell'uccello, perché il poeta vive, vive, quindi appunto ha la consapevolezza del proprio esistere e quindi appunto può tornare a riconsiderare il passato. Mentre al contrario, gli animali vivono in una condizione di eterno presente, quindi esistono, non hanno consapevolezza e sono più felici. Ancora il tema della critica al progresso. Nel dialogo del folletto di un ognomo, Leopardi presenta un mondo in cui l'uomo si è estinto a causa del suo folle comportamento, mentre gli altri esseri viventi continuano ad esistere e non sono sicuramente subordinati all'uomo, tant'è vero che esistono, benché l'uomo non ci sia più. E ancora, nella scommessa di Prometeo si afferma la negatività dell'uomo come un fattore intrinseco, cioè a prescindere dal suo grado di civiltà. C'è un netto superamento di Rousseau, quindi non c'è più il mito del buon selvaggio, il fatto che l'uomo fosse più felice in uno stato vicino a uno stato di natura. L'uomo primitivo e l'uomo moderno sono accomunati da una stessa infelicità. Il tema della morte. Dialogo della morte e della moda, in cui Leopardi immagina che la morte e la moda siano due sorelle. Perché? Perché la morte determina la scomparsa delle persone, degli esseri viventi e la moda cancella usi e costumi per imporne di nuovi. Qui chiaramente è anche forte la polemica sempre nei confronti del progresso e si sottolinea invece come tutto sia transeunte, tutto sia un continuo passaggio. Quindi è lontanissimo qui Leopardi da ogni tipo di idealismo. Nel Cantico del Gallo Silvestre poi si preannuncia la fine del mondo. Su questo non mi soffermo perché poi lo leggeremo. E ancora ci sono riflessioni metaletterarie. In Parini, ovvero della Gloria, si afferma che i grandi scrittori sono destinati a vivere nell'isolamento perché né i loro contemporanei, ma spesso neanche i posteri, possono apprezzarli. Quindi anche qua si nega l'idea del progresso perché Leopardi sottolinea come talvolta i posteri siano addirittura peggiori degli uomini contemporanei. Quindi non c'è affatto l'idea che il passare del tempo possa portare ad un progresso. E infine andiamo a vedere velocemente due aspetti importanti. Cioè il proemio, cioè il primo, l'opera con cui si, la prosa con cui si inizia le operette morali e poi invece la chiosa, la conclusione. Allora nel proemio che è un'operetta intitolata Storia del genere umano Leopardi inizia in questo modo. Narrasi che tutti gli uomini che da principio popolarono la terra fossero creati per ogni dove e a un medesimo tempo e tutti i bambini e fossero nutricati dalle api, dalle capre, dalle colombe nel modo che i poeti favoreggiarono l'educazione di Giove e che la terra fosse molto più piccola che ora non è, quasi tutti i paesi piani, il cielo senza stelle, non fosse creato il mare e apparisse nel mondo molto minore varietà e magnificenza che oggi non vi si scopre. Ma non di meno gli uomini compiacendosi insaziabilmente di riguardare e di considerare il cielo e la terra meravigliandosene sopramodo e riputando l'uno e l'altra bellissimi e non che vasti ma infiniti così di grandezza come di maestà e di legge adria pascendosi oltre a ciò di lietissime speranze e traendo da ciascun sentimento della loro vita incredibili e diletti crescevano con molto contento e con poco meno che opinione di felicità. Quindi si parte da questa idea di un'età dell'oro quindi la storia dell'umanità è ricostruita in termini mitici come la vicenda di una perenne ricerca di felicità una ricerca segnata da illusioni ma immediate disillusioni quindi a questa fanciullezza felice del mondo degli esordi invece si contrappone secondo la concezione vicana di vichiana appunto dei corsi e ricorsi storici l'idea di un'età adulta che è segnata al contrario della monotonia l'idea di una vecchiaia che è caratterizzata dalla noia e che poi conduce l'uomo al suicidio talvolta e quindi la storia dell'umanità è per Leopardi la storia dell'infelicità umana quindi questo è l'inizio delle operette morali vediamo invece la fine il dialogo di Tristano e di un amico punto forma dialogica l'amico inizia ho letto il vostro libro malinconico al vostro solito e Tristano sia il mio solito amico malinconico sconsolato disperato si vede che questa vita vi pare una gran brutta cosa Tristano che vuoi dire io avevo fitta in capo questa pazzia che la vita umana fosse infelice amico infelice sì forse ma pure alla fine Tristano no no anzi felicissima ora ho cambiato opinione ma quando scrissi cotesto libro io aveva quella pazzia in capo come vi dico e ne era tanto persuaso che tutt'altro mi sarei aspettato fuorché sentirmi volgere in dubbio le osservazioni che io faceva in quel proposito parandomi che la coscienza ad ogni lettore dovesse rendere prontissima testimonianza a ciascuna di esse solo immaginai che nascesse disputa dell'utilità o del danno di tali osservazioni ma non mai della verità anzi mi credetti che le mie voci lamentevoli per essere i mali comuni sarebbero ripetute in cuore da ognuno che le ascoltasse e sentendo poi negarmi non qualche proposizione particolare ma il tutto e dire che la vita non è infelice che se a me pareva tale doveva essere effetto di infermità o d'altra miseria mia particolare da prima rimasi attonito sbalordito immobile come un sasso e per più giorni credetti di trovarmi in un altro mondo poi tornato in me stesso mi sdegnai un poco poi risi e dissi gli uomini sono in generale come i mariti i mariti se vogliono vivere tranquilli è necessario che credano le mogli fedeli ciascuno la sua e così fanno anche quando la metà del mondo sa che il vero è tutt'altro chi vuole o deve vivere in un paese conviene che lo creda uno dei migliori della terra abitabile e lo crede tale gli uomini universalmente volendo vivere conviene che credano la vita bella e pregevole e tali la credono e si adirano contro chi pensa altrimenti perché in sostanza il genere umano crede sempre non il vero ma quello che è o pare che sia più a proposito suo allora interessante è veramente significativa questa affermazione di Leopardi chiaramente Tristano è un personaggio dietro cui possiamo vedere chiaramente Giacomo Leopardi Tristano finge in un primo momento di ritrattare le sue idee cioè finge che effettivamente il mondo non sia poi così negativo ma poi attacca in maniera estremamente dura la superficialità i limiti del pensiero dei suoi contemporanei e quindi confessa la sua disperazione e si dichiara poi pronto a morire quindi ad accettare con coraggio e con eroismo diciamo così la fine il suo destino interessanti anche le parole di Tristano nel momento in cui sottolinea come in un primo tempo fosse rimasto sdegnato dal fatto che gli uomini non apprezzassero la sua filosofia perché a lui sembrava talmente ovvio che gli uomini soffrissero perché gli uomini fanno esperienza di sofferenza ogni momento della loro vita che chiaramente pensava che sarebbe stata apprezzata la sua riflessione poi però in qualche modo si inizia ad ironizzare e quindi prende anche le distanze da questa sua delusione e quindi diciamo ribadisce come questi uomini così miopi così mediocri così accecati dal loro ottimismo avessero iniziato ad accusare Leopardi di essere un nichilista perché era deforme perché era malato qui torniamo quindi ancora una volta quella ritrattazione che ha fatto che abbiamo già letto nella lettera al desinner in cui appunto sottolinea come la sua filosofia la sua concezione della vita venga fuori da una riflessione profonda da una sua concezione filosofica del mondo che nulla ha a che vedere con le proprie deformità